Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Studio One Artist 5 arriva con delle grosse novità rispetto alla versione precedente. Come molti già sanno è in regalo con l'acquisto di un'apparecchiatura Presonus, come ad esempio schede audio, mixer e controllers. Studio One Artist 5 è finalmente completo di molte delle features incluse in Studio One Pro. La novità più eclatante è la possibilità, grazie alla richiesta degli utenti, di poter utilizzare plugins di terze parti liberamente. Un'opzione che prima andava acquistata come pacchetto aggiuntivo è ora disponibile gratis nella versione 5. I possessori di Studio One Artist 4 possono fare un upgrade per 45 euro alla versione 5 sul sito di Midi Music Shop e ritrovarsi con una delle Do economiche più potenti mai realizzate. Oltre questo Studio One Artist 5 dispone di nuovi plugin, presenti anche nella versione Pro, del supporto rewire e remote e tante altre novità. Come al solito dispone dei virtual instruments interni, di un nuovo ampire, oltre alle consuete funzioni come tracce audio e midi illimitate, tracce effetti, bass, aux, tutto per la creazione di mix senza compromessi e la connessione diretta a SoundCloud per la pubblicazione dei brani mixati. Le nuove funzioni includono il copia e incolla degli effetti con il drag and drop, la nuovissima clip gain envelope, gli aux channel, la sezione midi ora include i case switch ed il supporto per il note controller, ed infine la possibilità di registrare e suonare file audio a 64 bit in floating. Per prima cosa creiamo un account sul sito Presonus e poi registriamo il seriale che troviamo sulla cartolina nella scatola della scheda audio del controller. Per fare questo andiamo nel nostro account, abbiamo già visto come registrarlo nella lezione su Studio One Prime e attraverso il postante register a product inseriremo il software ed il seriale che abbiamo nella cartolina. Dopodiché troveremo il nostro Studio One Artist registrato nell'account. Da qui possiamo procedere per il download diretto dell'applicativo Show All System per vedere anche la versione Windows. Cliccando su Show 10 Bundles Downloads troveremo tutti i downloads relativi ai pacchetti aggiuntivi di suoni e loop da aggiungere a Studio One Artist. Come vediamo sono circa 7 GB di suoni gratuiti rispetto alla versione Prime. Sotto ancora in download troviamo il Melodyne Trial che possiamo installare, il macOS Rewire Installer perché alcune volte viene richiesto dal software la compatibilità con Rewire e quindi qui trovate la parte mancante del sistema Rewire che potrebbe essere richiesta da Studio One. Le guide per l'attivazione offline. Abbiamo poi demo e tutorial dove poter studiare come utilizzare Studio One Artist. I manuali in inglese francese tedesco e spagnolo e le release notes che fanno riferimento a tutti i cambiamenti che vengono attuati nei vari upgrade. Una volta scaricato il software siamo pronti per l'installazione. Registrando una scheda audio abbiamo a disposizione nella sezione dei prodotti hardware la possibilità di scegliere la scheda audio che abbiamo utilizzato e accedere nella sezione di software in bundle dove poter scaricare alcuni dei plugin aggiuntivi che funzionano in Studio One Artist come ad esempio tutto il pacchetto Studio Bundle. In base al prodotto registrato e al periodo in cui viene registrato avremo a disposizione più o meno plugins. Questo è il pacchetto completo che viene fornito ad esempio con la io station 24c. In base al periodo in cui abbiamo registrato i nostri il nostro studio one e la scheda audio potremo avere delle offerte di upgrade gratuito oppure come in questo caso avere a disposizione 4 mesi gratis di Presonus Sphere. Verremo portati nella sezione di registrazione e caricamento dei nostri dati relativi alla carta di credito e potremo partecipare così al Presonus Sphere per 4 mesi utilizzare tutti i prodotti Presonus anche Studio One Pro 5. Per cui ritornando all'interno della nostra studio bundle possiamo scaricare tutti i plugin aggiuntivi ed installarli per poterli utilizzare all'interno di Studio One Artist 5. Lanciamo Studio One Artist 5 e vediamo direttamente le novità. Ci ritroviamo subito nella finestra di start da cui possiamo immediatamente configurare la scheda audio o le interfacce MIDI external devices. In questo caso sto utilizzando la Fireface UFX ma su un altro computer ho installato una quantum vedremo poi come configurarla. da qui possiamo scegliere appunto il sample device block size per poter abbattere la latenza della scheda audio. In questo momento la mia Fireface UFX riesce ad avere 0.9 millisecondi a 48 KHz mentre poi nella sezione Processing troviamo la possibilità di lavorare con un doppio buffer e che permette a Studio One di utilizzare il suo famoso sistema di Zero Latency Monitor. Trovate queste ed altre lezioni più approfondite all'interno del mio corso su www.proaudiolearning.com. Nell'external device configureremo e aggiungeremo tutte le periferiche MIDI esterne che possono essere appunto controllers, tastiere e sintetizzatori. Vi ricordo che ad esempio i prodotti ProEsonos come Atom e il Fatherport non devono essere installati separatamente perché come anche il Complete Control di Native Instruments e il Machine vengono automaticamente rilevati, riconosciuti quindi da Studio One e integrati immediatamente nella sezione di External Devices. Ho aggiunto un vecchio modulo TG55 esterno collegato alla mia interfaccia MIDI Motu MIDI Express 128 sulla porta 3 da poter utilizzare all'interno di Studio One attraverso il nuovissimo canale AUX. Le altre preferenze fanno riferimento alla lingua che possiamo scegliere ad esempio in italiano, alla grafica quindi all'aspetto visivo di Studio One da qui possiamo correggere ad esempio la luminosità dei colori, spostarli, modificarli all'interno dell'applicazione come anche la luminosità e colori all'interno dell'arrangement o addirittura dai preset possiamo scegliere di caricare altri tipi di... o all'interno dei preset possiamo scegliere di caricare altri tipi di colorazione fino ad arrivare all'emulazione più completa se proveniamo da altre Do e quindi avere a disposizione dei colori più vivaci o più familiari su cui poi ci troviamo a lavorare o salvare il nostro. Ad esempio potrei scegliere di avere più luminance all'interno dell'arrangement e fare Store Preset lo chiameremo JGR. In questo modo poi potremo ricaricarlo velocemente al momento dell'occorrenza i keyboard shortcut ci mettono in condizione di lavorare immediatamente con Studio One soprattutto provenendo sempre da altre Do. Possiamo caricare infatti i Key Commands di Logic Cubase Pro Tools Cakewalk e ritrovare immediatamente tutte le funzioni sotto le dita. Location ci mostra dove verranno salvate le nostre song. Potremmo scegliere desktop ad esempio o addirittura documents. I sound sets sono le cartelle che contengono appunto i suoni che abbiamo scaricato e installato come pacchetti aggiuntivi. La Instruments Library ci permette di analizzare e vedere una cartella sound font per poter ampliare le potenzialità di Presence XT. Nel mio corso trovate decine di gigabyte di sound set gratuiti per espandere la nostra libreria con archi, pianoforti, batterie eccetera eccetera. La finestra VST Plugins ci permette appunto di scannerizzare tutti i plugin installati in base alle cartelle o resettare la block list se qualche plugin ad esempio non fosse stato caricato. Vi ricordo che Studio One prevede, Studio One 5 prevede plugin 64 bit. Siamo pronti ora ad esplorare una nostra prima song. Andiamo su New Song, la chiameremo Song Test Studio One Artist 5. Manteniamo queste impostazioni che potremo comunque cambiare anche successivamente. Facciamo ok e veniamo a contatto con la finestra di Arranger. Qui troviamo appunto l'Arrangements dove abbiamo poi a sinistra la finestra di Xpector eccola qui e la finestra Browse a destra. Entrambe le sezioni e come tutte le altre possono essere accese o spente in base alle esigenze. Sotto troviamo poi il mixer, questo momento è vuoto, e la finestra di editor. In alto abbiamo i nostri tools per selezionare, tagliare, cancellare, disegnare le automazioni, mutare i loop o le tracce. Il Band Tool, che è una funzione utilissima per poter fare time stretching in tempo reale. E la funzione Audition. Poi abbiamo il punto interrogativo che è la Info View, che una volta acceso ci mostra cosa fa ogni sezione camminandoci sopra. Quindi è una specie di Info View utilissima per ricordarci cosa faccia ogni tipo di pulsante. Proseguiamo con l'Audio Band, lo Strip Silence, il Quantize, che potremmo utilizzare sia in modalità Grid sia in modalità Groove, utilissimo per l'editing delle batterie o per quantizzare sia file MIDI che file audio, e la finestra delle macro, ossia quelle funzioni che possono essere raggruppate in un singolo pulsante e che sono una delle cose più potenti di Studio One. Possiamo infatti scegliere tra macro di audio editing, music editing, riferito al MIDI, il music creation, sempre sul MIDI, il podcast, eccetera, eccetera, le globa. Possono essere anche aggiunte delle macro nuove o scaricate delle altre macro direttamente dall'account Presonus. Vedremo poi come fare qui attraverso il Cloud e Presonus Exchange. Abbiamo poi la finestra di quantizzazione dove scegliere appunto il taglio della quantizzazione da una misura intera fino a un sessantaquattresimo e relativi swing, la suddivisione della nostra finestra di arrangements, in questo caso in bars, oppure possiamo scegliere se suddividerla in samples. Vediamo, è semplice da configurare. Lo snap fa riferimento al taglio, quindi in modo adattivo che sia quindi riferito alla griglia, oppure attraverso altri tipi di snapping, come ad esempio lo zero crossing se stiamo tagliando dei sounds per le librerie o per i campioni e quindi abbiamo bisogno di un taglio sullo zero crossing del sample, eccetera, eccetera. Qui abbiamo appunto diversi tipi di snaps. A fianco abbiamo il pulsante dei download per verificare che tutte le nostre librerie siano state scaricate, la finestra di start che ci riporta qui all'inizio e ovviamente il song menu da cui poter scegliere le varie song da che stiamo lavorando. Infatti Studio One, vi ricordo, ci permette di utilizzare e lavorare su tantissime song contemporaneamente senza rimanere appesantito da questo e quindi switchare tra una song e l'altra. È utile soprattutto mentre stiamo missando diverse song o prima del passaggio nella sezione di mastering per poter ascoltare più song contemporaneamente e quindi apportare le ultime modifiche prima di andare in mastering. Il pulsante upgrade ovviamente ci permette di scegliere, quindi ci porta nella finestra di upgrade di Presonus. Ma io suggerisco quella di MIDI Music Shop perché possiamo disporre di sconti aggiuntivi rispetto all'acquisto all'interno del Presonus Shop. Proviamo ora ad inserire alcuni loop, quindi andiamo nella sezione loops e qui abbiamo a disposizione tantissime sound libraries contenute sempre all'interno di Studio One. Andiamo su, ad esempio, electronics, drums, scegliamo dei loop, ascoltiamone qualcuno. I loop sono suddivisi in audio loop e music loops. Gli audio loop contengono all'interno, come vediamo, diverse sezioni di music loop, contengono all'interno anche delle parti MIDI e quindi vengono associati poi ad una delle librerie di esempio di Impact in questo caso. Sono molto utili per poter essere editati velocemente nella finestra MIDI di Editor. Questo è con il Drum Editor oppure con il Key Editor classico. Ogni pitch ha un colore, quindi è semplice da identificare. Qui sotto abbiamo la velocity, quindi la possibilità di scegliere la dinamica di ogni singolo strumento. Il Key Switch in questo caso non ci torna utile perché comunque fa riferimento e viene utilizzato con le librerie spesso di orchestra. Facciamo un loop, abbassiamo il volume generale. Qui all'interno possiamo vedere tutti gli slice contenuti nel macro gruppo. Quando troviamo questa catenina qui in basso vuol dire che il gruppo di piccoli samples è stato appunto raggruppato in un loop. Possiamo in questo caso scegliere anche di separarli utilizzando l'opzione Audio Dissolve Audio Part. In questo caso li vediamo separati e possiamo editarli separatamente oppure rimanere nella sezione gruppi e qui all'interno dell'editor mutare eventualmente quelli che non vogliamo ascoltare e quindi poi creare appunto dei gruppi di samples diversi da poter copiare poi all'interno dell'arrangiamento. Prendiamo ad esempio quest'altro. Come vediamo ogni loop poi possiede ad esempio questo piccolo ingranaggio che sta in indicare che il loop è stato strecciato per poter essere compatibile con il metronomo qui in basso. In questo caso questo loop è di 90 bpm e viene strecciato automaticamente a 120 bpm. Per poterlo ad esempio rallentare alla metà quindi a 60 potremo semplicemente strecciarlo ulteriormente utilizzando l'algoritmo di time stretch drag and draw cioè draggando questa sezione fino al doppio della misura. Per fare questo teniamo premuto alt apparirà un orologino qui in basso e noi strecceremo questo sample alla metà della velocità molto utile per creare anche degli effetti particolari. Le funzioni di time stretch e di pshifting sono veramente comode per poter picciare ulteriormente clicchiamo con l'impostante destro per accedere alla sezione transpose o tune e quindi accordare o modificare ulteriormente sia i loop di batteria sia quelli armonici. Nella sezione inspector troviamo tutte le informazioni relative alla traccia quindi abbiamo qui la possibilità di scegliere il time stretch delle tracce, il tipo di time stretch fino ad arrivare al taper example, il nuovissimo algoritmo che ci permette di fare uno stretching simile a quello di un registratore a nastro e che segue ovviamente la velocità della tempo track. Quindi possiamo andare nella tempo track ad esempio e rallentare e modificare la nostra velocità del brano. Possiamo ampliarla ancora di più spostando questo ad esempio a 10 e quindi avere più margine di spostamento della tempo track. Qui possiamo sempre scegliere di poter poi utilizzare la track notes per inserire eventualmente delle note riferite alla traccia come ad esempio modifiche, settings e tanto altro. Io ad esempio utilizzo spesso il song note per inserire il testo della canzone. Il canale poi ovviamente può ospitare i plugin di presonus e di terze parti in questa versione 5 come anche i sends. Vedremo poi in una song completa come utilizzare tutte quante le funzioni. Sotto troviamo poi le informazioni relative all'evento. Quindi possiamo in studio one ad esempio scegliere di tagliare uno degli eventi, prendiamo ad esempio l'ultima parte della misura e questo evento poterlo modificare ulteriormente aggiungendo un effetto relativo solo a questo. Prendiamo ad esempio un flanger che verrà applicato esclusivamente a questa sezione del file. La clip envelope poi ovviamente ci permette di fare altre modifiche sul file audio. Noi andiamo all'interno, scegliamo in questo caso l'opzione gain envelope. Come vediamo all'interno, coloriamolo diversamente per vederlo meglio, abbiamo a disposizione ora un inviluppo separato che possiamo programmare. Come vediamo viene anche influenzato il file che si trova all'interno. Questo per poter creare delle automazioni di gain nel loop che non fanno riferimento al loop intero ma soltanto ad alcune porzioni interne del loop. Siamo sempre poi in grado di selezionare e modificare il gain generale di tutto quanto il loop che abbiamo tagliato come anche i fade in e i fade out. Questa è una delle feature più potenti che Studio One 5 mette a disposizione per l'editing audio senza dover necessariamente entrare nella finestra di editor ma rimanendo sempre all'interno dell'arranger. Comodissimo come dicevo, comodissimo per emulare ad esempio i comportamenti di un compressore o per togliere quei fastidiosissimi clip digitali che spesso troviamo nelle tracce audio. Arrivando nel mixer apriamolo e notiamo già che le nostre tracce sono state create semplicemente draggando appunto le opzioni che abbiamo visto prima come anche impact si trova nella sezione degli instruments. Il mixer è una delle parti più potenti di Studio One Artist 5. Abbiamo a disposizione le tracce MIDI segnalate col tastierino, le tracce audio segnalate con l'onda. Possiamo aggiungerne di nuove aggiungendo appunto tracce con il pulsante più, quindi possiamo scegliere di aggiungere ad esempio un basso audio, formato mono e scegliere uno degli ingressi della scheda audio che sto utilizzando. In questa versione Artist possiamo avere a disposizione i bass, i canali effetto e ovviamente i VCA e gli house channel. Quindi in realtà ci troviamo di fronte ad un mixer estremamente completo e complesso per poter lavorare tranquillamente alla realizzazione di brani professionali che vengono poi rilasciati sul mercato. Ad esempio di questa cosa ho caricato l'intera song di Allo San Fan di Vincenzo Incenso direttamente all'interno di Studio One Artist e come vediamo è tutta completa, comprese le programmazioni. Abbiamo a disposizione diversi bass, sto utilizzando circa 220 tracce in totale, cosa che io posso poi analizzare qui al lato. Vediamo tutte le tracce che ho utilizzato nell'arrangiamento perché poi questa song contiene sia la versione italiana, spagnola e francese della stessa canzone. Ho caricato tantissimi Virtual Instruments non soltanto di Studio One come ad esempio Ana di Sonic Academy che uso tantissimo, Spire, un altro synth molto bello. Il classico Contact di Native Instruments che sto utilizzando per le librerie di Resenit per avere dei risers durante il brano. Addictive Drums con dei kit custom che mi sono creato all'interno. Kick sempre di Sonic Academy e altri layer di batteria sempre utilizzando Addictive Drums come vediamo ne uso tantissimi. Addirittura 5 kit ho utilizzato all'interno di questa song, oltre ovviamente ad Impact di Studio One. In questa song poi ho utilizzato tutti i plugin di Studio One per cui il Fat Channel tantissimo, i miei preferiti di PSP che sono il Fat Pressor e il PSP827, il classico FabFilter Pro Q3, lo SparkVerb di UV, il bellissimo riverbero di FabFilter Pro R e poi sul Master il Bix V2 di Brainworks per bilanciare i bassi in modalità mono e avere un tocco leggero sul Midside. Poi ovviamente il classico Vice DS1 come compressore sul Master, nulla di sofisticato perché appunto siamo nella fase di mix, però poi ho inserito tutti i vari compressori e sidechain direttamente nelle tracce che vediamo collegate. Come vediamo il compressore che si trova sul coro prende poi il feed dalla batteria eccetera eccetera. Per cui tutta una serie di connessioni complesse o meno che soltanto Studio One Artist adesso è in grado di mettermi a disposizione. Possiamo quindi avere a disposizione una vera Do completa di tutto. Altri plugin che uso spessissimo sono quelli di Acoustic Audio come sapete, quindi in questo caso sto utilizzando l'Ultramarine sia il Comp sia l'equalizzatore 27. L'unica cosa che mi manca effettivamente è l'utilizzo della pipeline, quindi l'interfacciamento con l'hardware esterno e quindi il mio Outboard che uso tantissimo nei mix. Ma andando ad esplorare la scheda audio all'interno di IOSetup possiamo vedere come posso con Studio One Artist utilizzare tutti gli ingressi e tutte le uscite della mia scheda audio. Come vedete tanti sono collegati con Outboard esterno, non posso comunque collegare tutti i microfoni dello studio in maniera semplice e rapida. Continuiamo ad esplorare il mix e il mixer di Studio One attraverso i nuovi plugin come vi ho già accennato in altri tutorial. Abbiamo ora a disposizione un nuovissimo ProEQ veramente utile e fantastico. Posso infatti ora utilizzare un low cut in fase lineare semplicemente cliccando qui e quindi avere un taglio sui bassi molto più professionale rispetto a prima per evitare appunto problemi di controfasi sul low end. Ho fatto un video apposito per i plugin dove spiego appunto tutte le nuove funzioni che sono ora disponibili all'interno di Studio One Artist. Infatti non dimentichiamoci che Studio One Artist comprende 5 instruments di base, 32 plugin audio professionali, le funzioni di patterns, la arranger track che vediamo qui in alto come anche la marker track. Possiamo convertire la marker track in arranger e avere a disposizione poi le sezioni da poter copiare liberamente il nostro arrangiamento per creare dei remix. 7 gigabyte di loop e suoni che avete già visto in azione. Il remote control questa volta è agganciabile con l'iPad quindi possiamo pilotare tutto il mixer di Studio One dall'iPad o da Android. E come abbiamo visto sono stato in grado di creare e terminare una song professionalmente senza problemi di sorta pronti per la fase di mastering a cui posso accedere velocemente grazie alla funzione export stems. In questo caso posso scegliere di selezionare soltanto i gruppi e quindi poter esportare gli stem diretti per la sezione di mastering multilayer. Questa funzione è impagabile all'interno di Studio One. Scegliere la risoluzione di esportazione. Normalmente faccio il mastering a 96 kHz. Lo vedremo poi in azione in altre lezioni relative al mastering multitratch. Questa song allo sound fun di Vincenzo Vincenzo è uscita qualche settimana fa su YouTube e ha avuto un discreto successo, sta andando bene, a dimostrazione che anche con Studio One Artist sia possibile rimanere in ambito professionale pronti per una produzione discografica di livello. In questo momento Studio One Artist è in grado di farci quindi produrre senza problemi ogni sorta di arrangiamento e mix e master che soltanto le Do Pro sono in grado di fare ad un costo però questa volta irrisorio. L'unico limite è l'immaginazione. Ora abbiamo veramente tutti gli strumenti adatti al nostro lavoro con Studio One Artist 5. Infine vi ricordo che ho creato un corso per imparare a migliorarsi con Studio One Artist sul mio sito www.proadiolearning.com dove troverete tantissime altre lezioni e ovviamente anche tanti files e song da scaricare per poterci esercitare insieme. Per il momento è tutto, ciao a presto! Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito www.proadiolearning.com o jgrstudios.com dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Fronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti iscrivetevi anche al canale Patreon dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao a presto! Ciao a presto!